I pregiudizi nello sport credo ci siano ancora ma credo anche che piano piano le cose stiano cambiando. La gente inizia a vedere che fare sport è una cosa per tutti, si inizia a vedere che tante bambine iniziano a giocare a calcio perché probabilmente i loro genitori vedendo in tv le donne calciatrici iniziano a capire che lo sport è per tutti.